Nella notte tra il 19 e il 20 novembre, questo pino si è abbattuto su una fiancata della casa del Gias in via di Porta Ardeatina. Da allora, effettuato il sopralluogo di rito da parte delle autorità cittadine, il direttore Giampiero Rubei è in attesa dell'intervento che ripristini l'agibilità della struttura. La risposta è quella che adesso interveniamo. La risposta è che adesso interveniamo. No, sono venuti, hanno visto, sono venuti, hanno visto, ma l'intervento fisico non c'è stato ancora. No, no, ripeto, l'intervento fisico è nella rimozione del pino e nel controllo di tutti i pini della casa del Gias che saranno 20-22, non è? Sono migliaia, capito? Una stasi che ha generato danni economici, di immagine e culturali to-cour a causa della cancellazione di due settimane di concerti ed eventi. Bad Plus, per esempio, che è uno dei gruppi più belli che c'è in questo momento, e abbiamo dovuto rimborsare i biglietti, abbiamo dovuto rimborsare i biglietti aerei anche. E quindi un danno, abbiamo due danni, un danno economico, un danno economico essenziale, perché insomma 15 concetti, più abbiamo un danno di immagine. Paradosso nel paradosso, proprio stamattina l'assessorato alla cultura, presentando l'iniziativa Musei in Musica, ha incluso nel programma il concerto del Cristiano Arcelli Quartet Brooks. Una pia illusione. Non si fa. Sì, è stato presentato, scritto proprio che c'era il concerto, ma che dobbiamo fare? Non abbiamo l'agibilità per farlo. Oltre alla casa del Gias, sui terreni confiscati al boss della Magliana Enrico Nicoletti, è sorto un parco pubblico, anch'esso a Flimitz, da due settimane. Anche per questo Rubai rivolge, in attesa delle istituzioni, un appello ai giardinieri di buona volontà. Se qualcuno venisse a darci una mano, a sistemare questi pini, insomma a darci l'agibilità e fare la musica nostra, no? E in più aprire questo grande parco che è un cuore, un polmone in questa zona di Roma che non c'è, non ce ne sono altri, aprire questo grande parco al pubblico.